È un piacere per me poter fare da testimoni e poter portare in giro un po' di informazione su questa malattia che non è purtroppo tanto conosciuta ma che colpisce parecchie persone. Quindi così come nella scherma si combatte, ci si sacrifica e si cerca di arrivare a un obiettivo, così per il meloma, per questa malattia, una volta diagnosticata, si cerca di combatterla e di arrivare alla guarigione. Sì, è capitato tante volte, ma non tanto cadere nel senso fisico, ma di non riuscire a raggiungere risultati, di allenarmi e perdere, di perdere tante gare, di non capire il motivo, di soffrire, di piangere, ma poi mi rialzo sempre, anzi quando ti rialzi dopo una caduta c'è molto molto più gusto, perché apprezzi tutto.